Covid-19, contagi in rialzo, tamponi e vaccini. Il dottor Massimo Agostini, membro della società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica delle Marche, fa il punto della situazione sul coronavirus. Dottore, anche nella nostra regione si registra un abbassamento dell'età media delle persone contagiate dal virus, per quale motivo secondo lei? In effetti si sta notando un abbassamento dell'età dei soggetti positivi, è difficile dire, però io penso che sia conseguente a un certo rilassamento che c'è stato nel periodo soprattutto estivo e quindi con una maggiore facilità nel partecipare in maniera anche non protetta rispetto a quelle che erano le indicazioni tipo mascherine e quant'altro nell'ambito di quelle che sono tutte le attività estive, cioè quindi dall'andare al mare alle feste, alle cene e altre cose che secondo me hanno rappresentato un po' di rilassamento rispetto all'attenzione che si doveva avere nei confronti appunto della possibilità di contagio e di trasmissione del virus. Quindi penso che sia un po' questo. Tenendo presente che di fatto in estate ci si aspettava comunque un calo dei casi, proprio connesso all'elemento della possibilità di stare alla vita in ambiente esterno, all'ambiente all'aperto e quindi con tutti gli effetti positivi che è quello legato allo stare nell'ambiente all'aperto perché il sole ha suo effetto nei confronti anche dei microorganismi, anche del virus, quindi da un punto di vista dell'ostacolare la sua diffusione. Però di fatto se poi invece si sono mantenuti i contatti stretti e situazioni di assembramento tale da poter diffondersi è chiaro che questo si è comunque verificato in alcuni casi, tant'è che abbiamo i cosiddetti focolai, cioè dei punti ancora limitati di presenza di infezione. Ci può dare maggiori dettagli sulla carica virale? È proprio quello che stavo accennando, nel senso che di fatto tutte le malattie infettive, anche questa come tutte le altre, è legata ad una sorta di rapporto che si viene ad instaurare da un lato, da quelle che sono le capacità aggressive del microorganismo, questo vale per tutte le malattie infettive, quindi che sono la virulenza, la patogenicità, ma anche la carica infettante, cioè la quantità di microorganismi che tendono ad attaccare il nostro corpo. Io tendo a fare un paragone per far capire come un castello è nostro che ha le sue difese e dall'altro c'è un nemico che ci attacca. È chiaro che più alta è la carica virale che attacca il nostro organismo, più è difficile potersi difendere. Dopo non si è per tutti uguali, c'è una individualità nel reagire nei confronti dell'attacco da parte dei microrganismi, per cui da un lato noi abbiamo tutta una serie di difese che in alcuni sono molto più spiccate rispetto ad altri. Ecco perché noi dobbiamo anche pensare ai soggetti che sono più debili, quelli che hanno una minore capacità di difesa. Quindi anche il fatto che alcuni soggetti abbiano una carica infettante elevata, cioè una carica virale elevata, ma non stanno male, probabilmente è perché hanno una capacità di reagire nei confronti del virus diverse da altri che invece è sufficiente una piccola carica microbica elevirale per poter determinare la malattia e i sintomi. Quindi è questo meccanismo tra sistema di difesa del corpo umano e le capacità aggressive del virus che determinano l'accopparso o meno di una malattia e dei sintomi. Perché è importante investire e intervenire sul territorio? È fondamentale. Oggi diciamo che noi possiamo giocarci tutto sul territorio. Il territorio è l'elemento, quindi parlo dei medici di base, parlo dell'UCCAT, parlo di tutti quei sistemi, del Dipartimento di Prevenzione in particolare, che devono essere potenziati in modo tale da poter garantire l'intervento immediato. Perché oggi questa battaglia la giochiamo nella capacità di isolare i soggetti, di individuarli, di isolarli ed evitare che quindi ci sia una diffusione del microrganismo. Più tamponi si fanno, più si riesce ad individuare i soggetti che sono positivi e quindi tendere ad isolarli. Quindi la battaglia è proprio qui, avere personale, avere risorse e i Dipartimenti di Prevenzione sono in prima linea, insieme a quelli che sono anche chiaramente i medici di medicina generale. Quindi è tutto su questo che si deve giocare, compresa anche la possibilità di garantire gli isolamenti. Una delle cose che mi sono sempre posto da quando è nata questa epidemia, come è possibile garantire un isolamento in un'abitazione che è magari di 50-60 metri gradati dove vivono più persone, dove magari ci sono anche due soggetti anziani che devono essere isolati. È chiaro che se lì c'è un soggetto positivo rimane difficile garantire un isolamento. Quindi una delle cose su cui si potrebbe anche pensare di agire è quella di trovare qualche struttura dove consentire l'isolamento, dove le condizioni ambientali dell'appartamento o dell'abitazione non consentono di garantire un isolamento adeguato dentro casa. Riusciremo secondo lei ad avere un vaccino nel giro di pochi mesi? Questa è la speranza, lo stanno studiando in tanti e sicuramente sarebbe la risoluzione di tutto il problema. Certo che è importante una cosa e questo la sottolineo perché da ottobre in poi potrebbe creare una grande situazione di confusione e difficoltà legata alla comparsa di alcuni sintomi, di alcune malattie come sono le sindrome parainfluenzali o più tardi anche la stessa influenza. Per cui la possibilità che c'è di potersi vaccinare per l'influenza già garantirebbe in qualche modo una chiarezza nei confronti dei sintomi che uno tende ad avere. Cioè se compare febbre o fatto la vaccinazione antinfluenzale probabilmente qualcos'altro rispetto all'influenza stessa. Quindi è importante la vaccinazione antinfluenzale, questo sicuramente.